Nessun cambio di colore per l'Italia con la sola eccezione della Sicilia passata. In giallo pochi giorni fa il resto del paese resta in fascia bianca. La conferma arriva dal monitoraggio su RT con l'indice di trasmissione che torna sotto quota 1 al di sotto del livello di guardia. Di contro passano da 10 a 17 le regioni e province autonome classificate a rischio moderato. E mentre il ministro della Salute Speranza valuta nuove possibili estensioni del Green Pass, il direttore prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza commenta i dati dell'ultimo monitoraggio, evidenziando che la situazione epidemiologica in Italia resta pressoché stabile. Questa settimana la situazione epidemiologica nel nostro paese resta pressoché stabile rispetto a quella della settimana precedente. L'incidenza si fissa a 74 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Scende di poco al di sotto dell'unità, l'RT, quindi l'indice di trasmissione, e si fissa intorno a 0,97. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 7,3% e al 5,7%, quindi al di sotto della soglia critica a livello nazionale, anche se c'è una regione che supera ancora la soglia critica, altre regioni che si stanno in qualche modo avvicinando a questa soglia. Data la situazione epidemiologica, dal fatto che riapriranno le scuole, si rimetteranno in moto una serie di attività, è bene completare rapidamente la campagna di vaccinazione e continuare a mantenere dei comportamenti che siano naturalmente ispirati alla prudenza. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dalla variante Delta, che si conferma predominante in Italia. Lo rileva proprio un'indagine flash dell'Istituto relativa al 24 agosto, che ha stimato una prevalenza nazionale pari al 99,7%.